Ma guardi signor Vazio, rimano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori l'è salita Mi spiace Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa E ogni volta che mi parte, sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante E' una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa Non so se so pazzo, ma so pazzo, io non faccio brutto Contrattore, andiamo col mio cane, scatto foto Andiamo a Q&B Ah! 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 Grazie a tutti.